che c'è anche lo sport volley Litas, delle grandi occasioni, lascia le briciole a Piacenza. Infatti ieri sera vittoria secca 3-7 a 0 per Litas Trentino in gara 1 contro Piacenza. Allora sentiamo le parole di Mattei Kazinski intervistato da Maurizio Colantoni. Ha vinto Civitanova il match di gara 1 con Milano ma ha vinto Trento importante soprattutto perché ha battuto una squadra forte come Piacenza. Siamo solo a gara 1 ma è bene partire avanti, no? Sì è sempre bene partire bene perché ti dà energia e ti dà credibilità per il futuro perché le partite arrivano una dietro l'altra e l'umore è una cosa molto importante in questo momento. L'ultima cosa, domenica c'è gara 2, sarebbe già un bel test per voi partire con la testa giusta e fare un bel risultato a Piacenza? Sì sicuramente perché capo loro è molto difficile, loro giocano molto bene a casa e sicuramente sarà una battaglia ancora più tosta di oggi.